...perto tutti i pezzi del motore, tutto quanto a fuori ...e buona che si può pagare? ...ehe, ha dovuto chiamare lui ...ehe, lui non si poteva buttare in acqua ...non è succo ...ha dovuto chiamare lui e pagare i testi ...erano tirati i gangaru, chissà cosa cazzo ha combinato ...la calizzata, il motoro, la seta, la seta... ...traenando le orate che hanno offerto, sarà... ...ma la spina, io c'era la spinta, c'era come l'antenna ...l'opera, io c'era il rapporto del debatto ...per pochi sette metri si passa qui del cane ...la spinta della spinta, eh, la spinta della spinta, eh ...la spinta della spinta